un ben ritornato a tutti voi che volete seguire questa serie molto querrosa soprattutto sapendo che il query non è ancora stato piazzato buongiorno o buonanotte dipende che ora state guardando l'episodio o anche buonasera o buona merenda dipende sempre da che ora state guardando l'episodio ma l'importante è che ho scoperto una cosa io avevo sto cazzo di questo book in mano da una vita alcune volte lo posavo alcune volte lo prendevo perché ho detto ma sì poi lo leggo poi lo faccio poi lo giro poi lo volto allora abbiamo scoperto che c'è una cosa che è una mod che non ho mai provato ma sembra carina che è una moda che ci permette di modificare penso noi stessi o una roba del genere con la genetica potrebbe essere carina perché perché io adesso da qui a x puntate spero più presto possibile volevo andare a fare un salto all'inferno siccome mi stanno sono molto richiesto da quelle parti soprattutto per tutte le bestemmie che scendono e praticamente essendo richiesto volevo un attimo difendermi dal caldo dell'inferno quindi stavo pensando che potevo anche farmi una specie di non so se posso farmi il clone o se posso modificare il mio dna per i cazzi miei però sarebbe stato molto 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 utile avere un appoggio spirituale in questa mod che sembra carina mi piace soprattutto perché tutti i macchinari neri quindi è carina allora questo allora da quello che ho capito praticamente devo fare questo oggetto qua che è uno scrapper c'è uno uno scortica palle per dirla brutalmente delle cose scortica palle non è vero è un è tipo raccoglie cellule umane o quello che è adesso vi sto scrivendo perché stai spostando i barili stai spostando i barili perché voglio metterla qua sotto la mod questa mod così genetica la volevo mettere in quest'angolino qua quindi come si fa questo scrapper su scrapper no scra eccolo qua ok si fa con un due stone stick e un iron ingot i stone stick penso si facciano in questo modo no stone tool rod no allora si fanno con la cobblestone stone stick ok si fanno con la cobblestone va bene e un pezzetto di iron che dovrebbe essere tipo questo quindi una volta fatto ciò ne mettiamo uno e uno due con il pezzettino di iron abbiamo vinto uno scrapper scrapper vabbè quello che è e andiamo a vedere cosa ci dice qui io clicco su claim reward ma non mi da mai un cazzo comunque ehm infatti vedete due quest with un claim and their rewards non so perché però vabbè poi abbiamo un analyzer o dna analyzer che non so come funziona no perché ho scritto esc ehm e poi abbiamo una mhm power all of the v sarebbe tipo una un generatore sembrerebbe poi abbiamo ehm un microscopio un un una seringa di antidoto che non so come si fa ma vediamo e ome sweet tube che non so che omeost ah no omeostasis ome sweet ma che cazzo che cazzo ho letto ome sweet tube si l'ho letto giusto e si chiama omeostasis tube che non so che cazzo serva ma va puoi salvare i tuoi geni che figo quindi posso modificare me stesso analyzer scrap every all day ma dai ma che figata autoscrapper oddio oddio posso metterlo la nella mob farm sono un genio non è vero stavo scherzando sono un imbecille perché non so manco se funziona a sta modo quindi allora dicevamo ehm advantage open 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 allora dobbiamo fare analyzer ma se facciamo analyzer dna analyzer allora mettiamo dna analyzer eccolo qua una magnifier dell'iron stone stick e glass perfetto glass ce l'abbiamo lo stone stick lo facciamo al volo ah no vuole per forza il vetro quello classico va bene ups scusa se vuole il vetro quello classico allora noi andremo amichevolissimo il mente a prendere il il vetro qua 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 si perfetto tu qui e tu qui magnifier posso usarlo anche da solo? posso analizzare questo? no questo no beh che se ne fotte andiamo a prenderci l'iron l'iron comunque tra una ballerata una lente di ingrandimento casa mia questa vuoi chiamatela come cazzo vuoi fare quindi andiamo a metterla qua track cos'è sta merda? fluxo trinco non ce ne facciamo niente magnifier perfetto dna analyzer ma vediamo come viene alimentato a corrente sta bestia che corrente vuoi? mmm non è specificato e come ti rompi? ah ti rompi facilmente ottimo facciamo la prova del 9 voglio vedere se prende corrente da qua? no ciò è molto brutto molto molto brutto a meno che a meno che no manco per il cazzo perfetto quindi liveti dal cazzo tu hai la tua corrente a parte va bene tu hai la tua corrente e quindi ti posso dire soltanto una cosa ammazzati allora vediamo un po' lo scrapper se funziona su di me come faccio ad usarlo su? ma usiamolo sulla pecora skin scales allora la corrente gliela facciamo nell'altro modo ehm come si chiama? non mi ricordo di più la corrente gliela facciamo nell'altro modo si si come si chiama questo? qua generator ma son cretino generator genera t o r ed è esattamente è un blocco nero tipo 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 questo oh uno spider eye non ci credo strano ce l'abbiamo? che domande del cazzo 1,2,3,4,5,6 basta uno quasi 6? si ottimo due fornaci grazie una, due il coso in mezzo questo e questo voi la generator regeneration no quella è un'altra cosa e la cosa vuoi? legno? si questa ceppa bruci un fottio di correnti di coso te non mi piaci bruci troppa corrente te ah ma qui è partito intanto carino molto interessante cazzo vuol dire sta a fare qua? bèh non ci sto capendo ancora niente di sta mod sto andando a random oh figo cos'è? shell of a ship ok organic drop non serve un cazzo sembra interessante come mod molto interessante molto interessante uh cazzo ehm scusate mi chiamano al cellulare torno subito forse forse ed eccoci ritornati dopo ovviamente miliardi di anni che ehm avevo interrotto la registrazione infatti non mi ricordo che cazzo stavo facendo ehm bruh molto bene stavo ci appuntando con sto coso qua forse ah si abbiamo delle la cellula di pecora cosa facciamo con la cellula di pecora? oh figo basic dna dictionary advanced basic cell 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 ahah oppure dna combiner dna remover dna transmutator genetic bow che cazzo è? bow tutta roba complicata allora dunque dove eravamo arrivasti allora dunque eravamo rimasti che ehm devo leggere sto cazzo di libro che così faccio anche gli altri macchinari ehm questo poi open e poi allora what is what? eh? vabbè comunque ehm dunque dobbiamo fare un microscopio allora quindi andiamo a vedere come si fa il microscopio allora ma ci facciamo prima genetic ehm microscopio ehm blocco di iron iron stone stick e glass oh che culo oh che sfiga non ho glass aspetta un attimo no oh abbiamo del glass figo però è da trasmutare nell'altro glass quindi vediamo un attimo ehm c'era il glass qua ehm questo qui ehm pom 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 ehm 1,2,3,4,5,6 no 6 sono 5 per il lato quindi sono 9 8 7,6,5,4,3,2,1 sicuramente ho sbagliato ma pazienza allora facciamo che fare un cubo di iron se infatti me ne manca uno di stia fare po' il caccia di collava caccia e e le 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 qua ok questo va qui e questi vanno qui perfetto microscopio il microscopio possiamo anche appoggiarlo qua sopra penso se non esplode boom no ok ehm mo mo ho appoggiato Così Così, no No, eh Vabbè, allora Microscopio, fatto Ehm Ehm Using the power You can settings Does not require Any power, va bene Takes a little while to show all the bits Not very useful Non è molto utilizzato Vabbè, va bene, andiamo indietro Ehm Save me, I'm dying Dobbiamo fare una seringa di antidoto E dice che non c'è Antidoto is a patch of the vanilla milk bucket But iniettile You're calling a potion F And give you a positive act Can be shot by genetic Boh, no Andy Spencer, non ci credo Possiamo lanciare le siringhe Lalalalalala Infermiere pazzo Facciamo, incredibile Ehm, che cazzo devo fare, quindi? Una seringa con l'antidoto Bene E mo, come cazzo se va? Ehm Ehm, siringa con l'antidoto Ah, eccolo qua Ehm, siringa filled Ehm Che cazzo è sta merda? Boh Ehm, devo fare la seringa Ehm, iron Glass bottle E freccia Allora, iron Ne abbiamo Ce ne sono tre Uno, due, tre Glass bottle Ce ne abbiamo una qua dentro Per il caso, sì E una freccia che Per pura fortuna Avremo sicuramente qua dentro Click Quindi, teoricamente Mettiamo La freccia qua sotto Ehm, la bottiglia qui Un, due e tre E che figo Ehm Mo Ehm P-p-p-p-p Allora, antidoto Allora Ci serve una seringa Fillerata Filled Quindi piena Ehm Come si fa a riempire Devo colpire qualcuno Immagino Devo colpire qualcuno Una persona a caso Ciao pecora Gniec Ma è verde Mo Se è verde che succede Ah deve Filled Però deve diventare Rossa Quindi Usage No Non serve un cazzo Usage Ehm Che stessa Servito un cazzo Perfetto Ehm Poi il prossimo Il prossimo Che il prossimo Ok Questo qui niente Saltiamo un attimo Omos with tube Omeostasis tube Dobbiamo fare Come si fa Omeostasis tube Sarà qui in mezzo Tipo questo Ma vaffanculo Seringa vuota Glass Iron ingot La posso svuotare Tipo No eh Allora quindi Ehm Glass ce l'abbiamo E ci sta bene Ci serve la bottiglia No Ah si la bottiglia si ci serve La bottiglia Così Questo No aspetta eh Sto confondendo i due crafting Allora ci serve Una di queste Tra di iron E Basta Allora Questa qua sotto Iron L'ho già fatto prima Sto crafting Ammazzati Quindi adesso così Così Ma son cratino Mi serve di nuovo l'iron Cazzo Non posso prendere Uno stack intero No Devo prenderlo a pezzi Perché C'ho voglia di fare Il cratino Andare avanti e indietro Oh E Questo Che cazzo Service No Non ti metti Ah Aspetta Forse ho capito E Così Eh Ah Posso anche dormirci Qua dentro Che figo E' come se fosse Un letto Allora Ah Che figo Interessante Eh Ok Poi Vediamo cosa offre ancora la ditta Questo l'abbiamo fatto Un named quest Perfetto Non sappiamo cosa sia Scrap everyday Autoscrapper Va bene Come si fa Autoscrapper Ah Ah Chest Hopper Scrapper Interessante Però devo rifarlo Allora L'hopper Allora Dunque Un Uno Due Tre Quattro Cinque Poi C'ho Legno Si Allora Dunque Devo fare Due chest Perché Una E' per L'hopper E una E' per lo Scrapper Lì Sto cazzo Poi Questo qui Facciamo così E va bene Poi Lo scrapper Era così Se non mi ricordo male Quindi è Così 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 E manca L'iron No Cos'è che manca? L'iron Chissà perché Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Perfetto Lo prendo sempre a contatto Perché non si sa mai Dov'è? Ah Ok Mi sono un attimo preso male Ho detto No La ricetta è sparita Ok Autoscrapper Immagino Gli serva la corrente Interessante Quindi L'autoscrapper Penso che lo metterò La prossima volta Di là O lo piazzo dopo Vabbè Comunque L'idea è quella Allora Prendiamo il nostro Libricino E andiamo a vedere Che C Quali sono? Ah ok Possiamo fare L'extractor Che DNA Extractor Vediamo un po' Come fa DNA Extractor Ah Basic DNA Dictionary Ah Ci sono Tante Celle Oddio Ci servono Tante Celle Pecorella Iiii Piccolina Vieni qua Piccolina Piccola 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 Ma perché Non gli si Regenera la vita A sta Puttanella Vabbè Per la scienza Serve Più Pecora E' morta Mi dispiace Va bene Uh Allora Cos'era qua dentro Yes Lo analizza Però tu devi anche Produrre qualcosa Si Giustamente Devi anche fare Della corrente Vedete Siamo parsimoniosi Soltanto Tre Dai E te ne metto pure uno per volta Poi vedi Qua Oppure Me lo sprechi un po' Troppo Eh Cia cia Vediamo un po' Cosa salta fuori Nel frattempo Oddio No Siamo In Ritardissimo Si accumulano No Cazzo Non si accumulano Porcaccia Dico la vacaccia Però Questi qua si To Vai lì e brucia Ottimo Ottimo Non si accumulano Mmm E' Una brutta cosa Che la cosa Che le cose E' una brutta cosa Che le cose Non si accumulano Dai Ce la puoi fare So che ce la stai facendo Ce la farai So che ti stai impegnando Ammazza Ti nel frattempo Allora Questo Questo Mettiamo a bruciare E Questo Quindi Qui ci mettiamo a bruciare Questo Che non ho manco visto Passare Veramente Però qua Nel dubbio Ci metterei ancora Un carcol Perché Ho paura Che non Ok Ho paura Che si bloccasse a metà Visto che poi Non abbiamo più La La piccola Sacrificale Il creeper E' dentro Fuori Fuori No dentro E' dentro E' dentro Il creeper E morirà Tra l'altro Di sofferenze E' La Grazie Perfetto Abbiamo Quattro di queste Com'è che era Il crafting Scusate Il basic DNA Dictionary Ha un libro Un libro Quindi di conseguenza No Il libro Aspetta Facciamo il libro Alla maniera Della Cosa Tipo così Così E così Due di qui E due di qui Perfetto Ah c'è da quattro Fico Vabbè Facciamo due libri Allora Canna da zucchero E string Così lo facciamo Alla metodo Della Tinkers E non andiamo a sprecare Troppa roba Allora Canna da zucchero Tip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 E di qui Avevo già i fogli Ammazzati Ehm Puh Cosa mancava Cosa mancava Cosa mancava Cosa mancava Mi sono perso Mi sono perso Mi sono perso Le string Perfetto Poi la piantiamo qua Perché Sono Ci ho pensato adesso Che sono passati Troppi minuti Per quello che avevo Già registrato Anche prima Quindi Dobbiamo Chiudere Rapidamente Due di questi Le string E sono Cratino Perché non ho fatto Il cosa Track Perfetto E voi là Un libro Vabbè Facciamoci anche il secondo Perfetto Ehm String Va bene Così Ehm Libro qui in mezzo Cellula 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 E cellula DNA Basic Ce l'abbiamo fatta Ok Ehm Dato che adesso Vabbè Volevo andare avanti Ma è troppo tardi Perché penso di aver fatto Una cosa tipo 40 minuti di video Perché mi sono Ho fatto Ho stoppato Ripreso Ci vediamo Nel prossimo Video Ehm Se questo è troppo lungo Pazienza Se è troppo corto Pazienza è lo stesso Perché l'ho fatto in due parti E quindi Buonanotte a tutti Come si dorme male Qua dentro Pazienza è troppo tardi Pazienza è troppo tardi